ciao amici, come dice il gravissimo Zareboiii il vero ultimo, il grande e l'intipo è il mio senso il minecraft, un bel colpetto di tosse ascoltate ragazzi è stato nato tutto il tito in flash c'è anche i nuovi hitbox dei passi non avete visto per non giocare ma guardate sempre il canale di Marzobrams David oh, l'ho fatto molto strano devi prenderlo come qualche anno no 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 sono le anime ma ti butta proprio due eh allora, li abbiamo lasciato alla prima forza, io l'avrei preso spesso andiamo a due go andiamo a due Dottore occhio sto o ho e e luo questo ah la città ora si sto curando Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. No Marco. Grazie a tutti. 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 VITICI. ciao amici e amiche vittici